Seconda, per te metterò il collo, è un bambù, potrebbe anche essere un bambù, hai capito? Vai su, non molli il gas, occhio che ti tira il sasso, ammazza spanti eh! Poi diglielo quando butti i sassi, che almeno uno si sta attento, eh vedi che uno scappa, cazzo! Quello che sbaglia, potrebbe essere il tuo legno della vecchiaia eh! No per favore, come per favore va bene! Tanto comunque qua se stai in mezzo, sia a destra che a sinistra, se devi mettere sul piede c'è il posto. E che ti va indietro se prendi? Se tu rimani qua che è freddo ti va indietro, c'è uno che te la tiene. Te la tengo, io te la tengo qua e lo zampi te la tiene da sotto. Si, allora, sempre i zampi sono morti. Senti! Torniamo a casa! Cazzo sono già bagnato. Ma va? fa più paura a scendere che a salire no no ho già detto come scendi te se uno scende normale mi sta già sui maroni a parte che ci sta su tutta la moto puoi saltare là metti lì ma tu potevi asfaltare il pezzo che poi scendiamo di là ma dove sei venuto giù te vai pure tra questo e questo così dove c'è la ghiaia sei subbiato che è la roba più difficile anche perché tiene se no non ti lo passiamo di là devi rifarla no va bene asfalta lei che io no no io scendo di là ma tiene zampi minca che buco che sei fatto sì no anche perché di qua è difficile ma molto peggio cazzo sei fatto un buco dalla madonna guarda che buco cazzo questo è già un bel attrezzo di quelli vecchi va che bello che è e te però poveretta vai dentro i pedali no qua pecchi tutto qua che è che è giapporato è per il prossimo sì ma è che è esplorato ma che sei fatto 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 ma che ho messo lì questa è stato tu lì mi piace tu lì bravo bravo vado giù vado giù porta la scuola vedi porta la scuola vado a scuola vabbè qua va a scuola andiamo andiamo ma che vado su quando torno no quando torno arriviamo di là non lo facciamo mai una volta siamo venuti fuori mi ricordo con Lele, lo Stefano con il Bellerino e uno lo hanno fatto cadere però non era quello giusto lo hanno fatto cadere quello di là vedi lui come è fatta non cadrà mai cazzo c'ha le gambe avanti due metri non cadrà mai e non cade non cade perché ci arriva e comunque anche lì sta portando via tutto perché quei sacci lì al posto di al posto di mi chiede il risalgo a boh ma perché faccio giusta sta voce zero 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 questo che ci viene la tecnica che spalle oh seconda rimetti qui al posto dovevi che potrei cadere di là guarda hai giù nel buco qua no qua non puoi cadere qua qua non cadi devi farla lì in mezzo qua devi passare minchia ha anche saltato incredibile la prima volta in vita sua la prima volta che hai saltato ora fate anche a scendere maestro è un cesso a posto un po' la ghiaietta è il cat e kit che mi frega no ma non è che mi stecca il peccato poi sto un po' il peccato oh l'hai ripresa? no allora la devo rifare la devi ripresa dai ripare dai ripare fatta bene dai dai rifalla stavolta però che è convinto mi sposto ti sei? grazie a martello no ma il metodo di sposto dove è sta qua tutto il giorno? vogliamo prendere sto pomeriggio ma vai più dietro è il primo scacchio della sua vita che fa maestro è tutto il maestro oh vantano a qui costata perché mangi troppo qui tecca è tutto il maestro